Da questa esperienza mi porto a casa sicuramente gratitudine, mi porta a casa fondamentalmente un cuore nuovo, pieno di persone, di avventura, di magia, di divertimento, di leggerezza. Mi porto a casa nuove consapevolezze e una direzione, una strada nuova che non avevo mai avuto il coraggio di vedere, che invece qua è diventata un po' più chiara. Questa esperienza è stata perfetta, direi, è stata perfetta in ogni cosa, in ogni gioia, in ogni difficoltà, è stata sfida, è stata successo. Consiglierei questa esperienza fondamentalmente per un motivo, perché se io posso andare da B, più veloce, guidata, perché non farlo? Prima di fare questo ritiro sicuramente mi sentivo confusa, senza una direzione. Dopo questi giorni mi sento centrata e ho una direzione, ho una strada che anche se non vedo tutta non è importante, ho i primi scalini. Per me non c'è niente di più grande di questo. Ora, rispetto a prima, sicuramente vedo possibile la capacità di osare, la fiducia nell'osare verso lo sconosciuto, verso l'ignoto. Una volta a casa ricomincio, riparto non da zero, riparto da me, riparto da me più mille, metto in pratica le consapevolezze nuove, ma nella vita reale, nella vita concreta. Divertimento e leggerezza. Ciao mattina! Sicuramente un mio grazie doveroso a te, lo faccio da anni, ogni volta cambio il motivo per cui lo faccio, per cui ti ringrazio a cuore aperto. Sicuramente se ti devo dire grazie oggi, dopo questi quattro giorni, è perché sei capace, sei stata capace di essere il mio faro a modo tuo e insegnarmi ad essere il mio faro a modo mio.